L'infiorata è una bellissima manifestazione che si svolge a Castilenti ogni anno in occasione del Corpus Domini. L'infiorata che vedete su questa via viene fatta da infioratori non professionisti ma che sono delle persone normali di Castilenti, mamme di famiglia, ragazzi che seguono il catechismo e giovani che frequentano la parrocchia e che ogni anno scelgono i quadri da fare e con notevole lavoro che comincia anche due settimane prima cercano di infiorare al meglio questa via. Quest'anno è stato dedicato al 18 gennaio 2017 alla immane tragedia che ha colpito una delle zone vicine a noi, Ricopiano, e a tutti i ragazzi che sono morti in quella tragedia. Per questa festa dell'infiorata nel giorno del Corpus Domini che è la Chiesa celebra dal XIII secolo quando all'interno della Chiesa c'era questa riflessione su se in quella pane, in quel vino c'era veramente la presenza reale di Gesù. Allora questa festa è stata istituita in quel tempo nella Chiesa per ridire che in quel pane, in quel vino che noi vediamo dopo la consacrazione lì c'è veramente il corpo e il sangue di Cristo come poi a seguire i miracoli eucaristici a partire dal primo nella storia che è quello di Lanciano poi ha fatto realmente vedere.